Ok, allora siamo qui per la presentazione di un testa di cazzo come altri. Oh, che faccia di merda! E' brutto! E' brutto! E' brutto polino! Guarda che brinde che ha! Madonna! E' fuorissimo! Madonna! E poi è un stigazzo! Frida! Ma che frida? Davide! Davide? Ma che fatto di merda sei! Io lo so! Eh, ma... E ora non si muove niente! Ma non si muove niente! Ma non si muove niente! Oh, è stigazzo! Eh, si! Oh, se sei gay mi guardi! Ecco! Ha consentito! Ha detto anche lì si! Oh, gay! 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 E poi guarda che se la parte di solo batteria adesso qui... Eh, è vero! Non ci conviene! Esatto! Esatto! Perché c'è solo la batteria! Esatto! Vedete? Perché io e lui... Eh, si! Io e il pedofilo qui... Pedofilo! Diciamo... Registriamo! Registriamo! Registriamo una patta di merda! Ma giocca! Ma poi va la chitarra! Madonna! Ancora ora! Mamma mia! Vado! 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 Vado!